E' l'inganno della democrazia di gente bla 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 amati. Va bene, abbiamo capito. Tutti si sentono uguali. Ma no, siamo uguali. Non viene premato la meritocrazione. In meritocrazia si dice, ma cos'è? Io dico che l'impiegato con la twingo, affetto da monoredditismo, il sindaco, me lo deve far muovere sottoterra. Ma no, ma no. Un filo sopra al collettore delle acque reflue. Ma perché? Perché se il petroliere arabo viene qui e vede una tingo. Eh, la twingo. Ma va in shock anaprofilatico. Anaprofilatico. Allora, la morte del turismo top in Italia è la twingo del monoredditismo. No, non è vero. Non ha senso. Sono discorsi che non hanno senso. Bla bla, monoreddit, monopatito. Ma tutto monogamo. Cosa? Monopatino, monogamo. Quando c'è la parola di mezzo, mono. Eh. Subito scatta la tristeccia. Ma non è vero. Però i radical chic, i radical chic fanno la città tutta monopatinabile.